Come studente vorrei esprimere il mio desiderio, ovvero quello di approfondire all'interno dell'ambiente scolastico quella che è la conoscenza delle tradizioni e della cultura, non solo del nostro paese e del nostro territorio, ma anche quella di territori lontani. Questo essenzialmente per due motivi. Il primo è per un desiderio di ampliare le mie conoscenze, la mia comprensione di quello che avviene non solo all'interno del mio territorio, ma anche negli altri. E il secondo perché ritengo che nella vita di tutti i giorni, nella società attuale, nella velocità che guida i nostri movimenti, non ci sia tempo per pensare a quello che era il mondo una volta, a quelle che erano le tradizioni, la cultura dei miei antenati. E quindi è proprio all'interno della scuola che questi aspetti possono essere messi in rilievo, possono essere analizzati. Penso che noi studenti siamo dei giovani alberi, stiamo crescendo verso l'alto, però le radici, la nostra parte fondamentale sono le tradizioni, la cultura, quello che era il modo di vivere, di pensare una volta dei nostri antenati. Senza radici un albero non è niente, un albero muore, marcisce. Ed è la scuola che si deve prendere cura di queste radici, coltivarle e migliorarle. Ciò che io e tanti altri studenti abbiamo rilevato è la necessità di imparare il metodo di studio che possa servirci anche dopo l'istruzione obbligatoria e l'università. Ciò perché in un mondo in cui la globalizzazione ha cambiato i parametri per la determinazione di cosa sia veramente utile nel mondo del lavoro e quindi cosa sia più utile tra competenze e nozioni, la necessità di competenze ha prevalso sulle nozioni. Infatti a giorno d'oggi ci viene richiesto non tanto di avere delle conoscenze pregresse, bensì di essere sempre capaci durante l'arco di tutta la nostra vita di imparare ciò che ci serve per portare avanti un determinato lavoro. È altresì necessario avere un altro, un metodo di studio che vada al di là della semplice dimensione scolastica e ci permetta di presentare delle competenze, un curriculum che ci presenti quanto più flessibili possibile. Abbiamo quindi bisogno di imparare ad imparare. Noi studenti vorremmo sottolineare quanto sia importante affiancare i soliti metodi di apprendimento, attività più interattive e lavori di gruppo che ci permettono di creare un confronto aperto con gli altri. Interagendo con i nostri compagni possiamo infatti compiere un vero percorso di crescita e acquisire abilità che ci saranno fondamentali durante tutta la nostra vita. Sarebbe ancora meglio poi in questi tempi avere la possibilità di scoprire chi è diverso da noi, confrontarsi con diverse culture, diverse lingue, diversi modi di pensare per capire che davvero dal confronto con il diverso possiamo imparare molto. La scuola superiore di cui abbiamo bisogno è quella che ci fa mettere in pratica le nostre conoscenze che impariamo a scuola. L'educazione deve conoscere il nostro potenziale, giovinezza, energia, creatività e non ci deve soltanto lasciarci seduti in classe ma anche portarci verso l'azione. Le attività di laboratorio sono un esempio come passare da conoscenza a saper fare. Il ruolo della scuola secondaria superiore è aiutare il proprio studente ad apprendere dai propri errori non soltanto da un punto di vista scolastico e valutando così i propri limiti e le proprie capacità che lo studente riuscirà a trovare il suo futuro nel mondo del lavoro. Avendo così un'adeguata capacità critica che si riuscirà a trovare un punto in comune tra ciò che lo studente considera ideale e ciò che sarà la sua vita un domani. Durante l'istruzione secondaria superiore noi ragazzi abbiamo bisogno di poter coltivare i nostri passioni, i nostri interessi. È per questo che noi ragazzi riteniamo che sia giusto che all'interno della scuola ci siano dei corsi o delle iniziative che ci facciano prendere parte allo sport e all'arte perché anche questo è materia di studio. Questi corsi possono essere anche utili per fare amicizie al di fuori di Facebook che oramai è diventato praticamente parte della vita di ogni ragazzo. Quindi riteniamo che la scuola non debba essere solo un luogo per imparare le gesta dei grandi eroi ma anche un luogo di aggregazione e di svago così da poter comunicare e per poter andare avanti e stimolare il nostro spirito e il nostro corpo. Accanto al profilo accademico noi studenti della scuola secondaria superiore riteniamo molto importante anche l'aspetto sociale. Difatti oltre a costituire un modo per estranearsi e prendersi una pausa dallo studio il servizio sociale è parte fondamentale, essenziale della formazione di uno studente e quindi costituisce una sfida personale per lo studente stesso che è alla base del principio di cittadinanza attiva. Il servizio sociale è inoltre il modo più semplice e concreto per lo studente di fare del bene a chi gli sta intorno e alla propria città. Noi studenti della scuola secondaria superiore crediamo sia importante a fianco di un'educazione più prettamente scolastica lo sviluppo del nostro giudizio critico per renderci abili a riconoscere autonomamente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato perché per noi la scuola deve insegnare la giustizia tramite attività legate ai problemi del territorio e al servizio sociale e deve formarci al disprezzo della corruzione, del crimine e dell'odio. Così quando metteremo in pratica tali insegnamenti potremo apprezzare, perseguire i valori morali della nostra società civile. Asittà 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 Grazie a tutti